Il sindaco di Crogna Leto, Giuseppe D'Alonso, il nuovo presidente del BIM, Vomano Tordino. La nomina è arrivata dopo un lungo testa a testa 19-17 con il vice sindaco di Torricella, Marco Di Nicola, espressione del centro-sinistra il primo e del centro-destra il secondo. L'elezione si è svolta nella sala polifunzionale della provincia e ha visto coinvolti 26 comuni del consorzio, con 37 delegati, in maggioranza sindaci. Quando c'è democrazia c'è competizione, questa del BIM è stata una vera competizione, i territori che si sono divisi e poi hanno trovato una sintesi. È già un punto di partenza perché se c'era un altro pareggio si andava per le lunghe. Io parto proprio da qui, dal fatto che oggi sono nominato presidente del BIM e quindi il mio compito è quello di riunire innanzitutto gli organismi del territorio, quindi penso ai sindaci, penso ai delegati, perché l'obiettivo è uno solo, cioè quello di fare del bene comune il territorio stesso. Come ho detto nel programma, attenzione al terzo settore, attenzione alla scuola, alla sicurezza del territorio, un ragionamento da fare con la Feder BIM, valutare se i sovraccanoni sono corretti, valutare se le entrate sono giuste, per poi ovviamente programmare insieme ai sindaci e ai nostri delegati, nel mio esecutivo, l'azione vera del consorzio stesso che vedremo nei prossimi giorni. Una sfida al Cardiopalma che è iniziata a ritardo per la consultazione dell'Assemblea dei delegati sulle modalità di voto e che ha visto due tornate. Nella prima c'è stata la fumata nera con un pareggio 18-18, un esito che è andato oltre gli schieramenti politici dei due candidati che potrebbero andare a incidere sulla composizione del nuovo esecutivo dell'ente. Marco è un bravo ragazzo, io l'ho visto anche al lavoro, è un ragazzo che ha portato a sé 18 delegati, poi è mancato il numero della parte vincente, però con lui cercherò anche di intelaiare un discorso perché lui rappresenta una parte, io magari un numero in più, ma insieme dobbiamo costruire bene il futuro.